Gentili telespettatori, buona giornata, sarebbe pronto il nuovo decreto, chiamiamolo decreti sicurezza, decreti ONG, potere ai prefetti, multe, sequestri e confisca. Saranno presi altri provvedimenti, lo aveva detto Giorgia Meloni qualche giorno fa, e in effetti è già pronto immediatamente un nuovo provvedimento, delle nuove leggi. Sì, molti ritengono che ormai siano diventati dei taxi del mare, come diceva Di Maio nel 2018. Anche Tajani lo ha spiegato a Bruxelles, ovviamente in altri termini, dice una cosa è salvare vite, un'altra è darsi un appuntamento in mezzo al mare, a largo delle coste libiche. L'Europa che cosa ha detto? Ne riparliamo nei prossimi mesi, che fare allora a un nuovo decreto, potere maggiore ai prefetti, in modo da rendere più veloci i sequestri e le multe alle imbarcazioni che non rispettano le regole. L'idea del governo è fermare le navi che non rispettano i decreti interministeriali di divieto d'ingresso o ingresso temporaneo nelle acque italiane. Questo tipo di provvedimento è lo stesso che nei giorni scorsi con la firma congiunta di Crosetto, Ministro della Difesa, Salvini, Ministro Infrastrutture e Trasporti, e Piantedosi, Ministro dell'Interno. È stato adottato quel provvedimento nei confronti dell'Umanity 1 e della Geo Barenza a Catania. I comandanti delle due navi a cui era stato notificato il decreto di sosta temporanea, poi non hanno voluto sapere di ripartire, una volta che erano stati fatti sbarcare soltanto i migranti considerati fragili. Il nuovo potere da conferire ai prefetti che consentirebbe loro di non dover attendere i tempi lunghi della magistratura è pensato proprio per poter intervenire nei confronti di quelle ONG che si rifiutano di rispettare le regole. Quindi un intervento immediato dei prefetti che sono le autorità di pubblica sicurezza, il prefetto di Milano, il prefetto di Novara. Ci sono l'Italia suddivisa in zone con prefetti che si occupano di pubblica sicurezza, quindi dei poteri a queste persone funzionari dello Stato per poter sequestrare immediatamente la nave senza aspettare i tempi della magistratura che sono più lunghi e così le navi ripartono senza essere state sequestrate. Quindi hanno pensato come fare, hanno trovato la soluzione. Qui verranno poi reintrodotte delle multe che si avvicineranno o saranno proprio di un milione come le hanno in Spagna. Ci sarà il sequestro o anche la confisca della nave come c'è ad esempio in Spagna. Vi ricordo che negli altri paesi sono ancora più dure le sanzioni perché ad esempio sempre in Spagna c'è l'arresto del comandante della nave, il processo per direttissima. Capite perché le ONG spagnole non hanno la minima idea proprio nulla di ritornare in Spagna con dei migranti? Perché gliel'hanno detto chiaro in Spagna, se voi partite e tornate con dei migranti ve la vedrete con noi. E lì non scherzano. Questo è quello che diceva la Meloni fino a ieri. Non siamo più la repubblica delle banane. È finita, è finito il paese dove vai e fai quello che vuoi. Non so se vi ricordate tutto quello che è successo in passato, dove le navi entrano sul territorio in acque nazionali e sbarcano quando gli pare piace. Capite? Questo non deve più accadere. Per questo che la Meloni dice che la Repubblica delle Banane non c'è più. Sperando che gli permettano di governare un certo tempo da riuscire a cambiare questo tipo di visione che c'è in Italia e all'estero. Naturalmente la tattica della Meloni è questa, anche sulle parole. Non si chiamerà più decreti sicurezza. Saranno delle nuove leggi. Non si chiamerà più blocco navale, ma piano Marshall per l'Africa da 100 miliardi da fare con l'Europa. Poi se l'Europa non vuole, noi come Italia faremo degli accordi bilaterali tra paesi di partenza e paesi di arrivo, cioè la Libia e l'Italia. Però non chiamarli più blocco navale, decreti sicurezza, perché quelle parole hanno assunto delle forme particolari. Decreti sicurezza richiamano a Salvini, al Viminale, processi, eccetera, eccetera. Quindi non chiamarli più blocco navale, ma accordo con i paesi di partenza. Così anche da spiazzare il politicamente corretto e tutti i detrattori che era più facile criticare il blocco navale, perché quel blocco navale chissà che cosa immagina, è più facile criticare blocco navale come parola, come definizione, che accordo con i paesi di partenza. Capite? Io critico l'accordo con i paesi di partenza, invece critico il blocco navale è più una roba teatrale, no? Voi sapete che il blocco navale alla fine è un accordo tra Libia e Italia su impedire le partenze. Ovviamente devi dare tanti soldi alla Libia per convincerli a impedire le partenze e per convincerli a fermare gli scafisti, che sono un business enorme sulle coste, dove, come dice Frontex, autorità europea, dove c'è una suddivisione di questi guadagni tra autorità e criminalità. Come spesso avviene in paesi, diciamo, in via di sviluppo, ma molto in via di sviluppo, eh? Molto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti. Arrivederci a presto. C'è anche poi Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie e di fai-da-te. Mentre poi c'è anche in Cucina con Carla, che è il canale di mia moglie Carla, Carla con la K, dove appunto trovate video di cucina, piatti. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie a tutti.